Si chiama Caffè Diritti ed è l'iniziativa che tutti i mesi mette in piedi l'Associazione Avvocato di Strada, un servizio aggiuntivo a quello già fornito della consulenza gratuita. È organizzato in maniera molto semplice. Noi arriviamo con una tematica che può essere, come oggi, la residenza, o il lavoro, il diritto di difesa a livello penale, ci sono anche i diritti previdenziali e praticamente facciamo una chiacchiera su questi diritti, molto aperta, con tante domande che devono fare loro, e Caffè Diritti perché l'idea era di offrire un caffè e di fare una chiacchiera sui diritti. Oggi si è parlato in maniera specifica di residenza, di come si perde e come si può ottenere di nuovo, servizio per il quale gli avvocati di strada possono dare una mano. Tanti utenti che arrivano in questi centri di accolienza e dormitori hanno perso la residenza per diversi motivi e quindi, avendo perso la residenza, hanno anche perso tanti diritti. Tra i diritti più pesanti sono quelli del medico di base, particolarmente utili quando si vive in strada ed il fisico è messo a dura prova. E alla mensa di San Bernardino ne vedono passare tanti, di poveri, tutti i giorni, fornendo il pranzo a più di cento persone per i quali vengono offerti altri servizi come le docce e momenti formativi come questo. Ogni mese ospitiamo gli avvocati di strada, loro propongono un evento su un tema e poi chi è interessato viene. In più, ogni settimana offriamo i nostri locali per poter espletare questo servizio e gli ospiti che hanno bisogno gratuitamente vengono a chiedere consiglio a questi professionisti che danno il loro tempo gratuitamente. Quanti ospiti avete qui, in questa mensa, e da dove provengono? Di solito gli ospiti che possiamo contenere in sala sono 98 e poi ne prevediamo anche altri 40 per quelli che non possono trovare posto in sala, quindi 140 in tutto. La provenienza è Africa, Nord Africa, Centrafrica, poi vengono dall'India, Sri Lanka, Pakistani e anche dall'Europa dell'Est, purtroppo anche italiani.